Firmato il primo DPCM dell'era Draghi. Sarà in vigore da sabato 6 marzo fino al 6 di aprile, Pasqua compresa. Rimangono le fasce di colore con i diversi livelli di restrizioni, che restano pressoché immutate. Il nuovo governo non sembra intraprendere alcun cambio di passo nella gestione del Covid, fatta eccezione per le zone rosse su cui arriva la stretta. Al massimo livello di restrizioni, infatti, saranno chiusi anche barbieri e parrucchieri, così come le scuole, di ogni ordine e grado. Nelle zone arancioni e gialle i presidenti di regione potranno comunque disporre la sospensione dell'attività scolastica, nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti e nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100.000 abitanti nell'arco di 7 giorni. Le visite a parenti e amici dirigendosi verso abitazioni private sono consentite una sola volta al giorno, nel limite di due persone, ma non in zona rossa. Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 ed è anche vietato uscire dalla propria regione, anche se questa dovesse trovarsi in zona bianca o gialla.